Il Laboratorio dei Saperi salverà Teramo. È la proposta di rilancio del capoluogo a Prutino dell'architetto Franco Esposito, direttore di Tetractis, Istituto di Cultura Urbana. L'idea è quella di creare un luogo dove far incontrare le creatività locali, una strategia vincente per aiutare la città a risollevarsi. Tetractis fa ricerca da 30 anni. Voi come individuate e come vedete il ruolo futuro di questa città in questo momento di grande emergenza? La crisi degli ultimi mesi ha reso ancora più difficili e problematiche alcune cose che erano già di per sé drammatiche nel nostro territorio. Oggi è il tempo assolutamente di cogliere l'occasione non solo per ricostruire gli edifici, la parte immobiliare della città, ma per ridisegnare e progettare un futuro di tutto il nostro territorio. Tetractis ha proposto negli ultimi mesi la creazione di un laboratorio dei saperi, per meglio dire un laboratorio per la contaminazione delle idee, in cui possano riversarsi una serie di proposte, di studi sulla nostra città e sul nostro territorio, e disegnare quindi le tre direttrici di sviluppo del nostro territorio, che per noi sono la salute dei corpi, la salute delle menti, la salute del territorio. Lei punterebbe più sul turismo, sulla cultura o sull'enogastronomia per Teramo? Ecco, io continuo a dire che queste sono purtroppo solo delle frasi stereotipate, cioè non si può continuare a dire puntiamo su innovazione e ricerca, gastronomia e turismo, mare e montagna, sono formule. Bisogna trasformare queste formule in vere e proprie filiere, questo ci insegna l'industria. Come valuta l'azione politica di questi ultimi dieci anni? Non è una domanda a cui posso rispondere io. I romani ci insegnavano che la Civitas era molto più importante dell'URBS costruita. Ecco, i nostri politici dovrebbero occuparsi di più della Civitas e quindi della comunità, come si faceva anticamente nelle antiche agora anche greche, insomma, che non semplicemente di ricostruire una pavimentazione o una fognatura, che pure ovviamente sono importanti. C'è dunque bisogno della coscienza di tutti per curare le profonde ferite di Teramo? Esposito concorda con gli psicologi quando affermano che nel momento in cui si prende consapevolezza di un problema è allora che si comincia a guarire.